Vi avevo promesso quello che era un'analisi, un videoanalisi di breve periodo, beh, più o meno, insomma, una decina di giorni per quanto riguarda Bitcoin e le cripto ed è questo qui, tant'è vero che ho già preparato una serie di grafici di cui il più importante è questo qui, il grafico delle future cm di Bitcoin, perché da un po' di tempo è diventato un grafico un po' più preciso, un po' meno frutto di giornate senza senso come sabato e domenica, perché da quando la questione degli ETF è diventata in pratica ormai un must per quanto riguarda la narrativa di Bitcoin, il grafico dei future cm di Bitcoin è diventato molto più affine alla realtà delle oscillazioni e delle quotazioni di Bitcoin piuttosto che il grafico spot, quello che siamo abituati a vedere veramente da tanto tempo e quello che, a dire la verità, insomma, ancora a me piace più di ogni altra cosa. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, lancio della moneta veloce perché l'abbiamo fatto ieri, ieri indicava rialzo, quindi oggi è andata un po' meglio, insomma, eccetera, adesso invece mi indica il rimasto, ragazzi, quindi non so quanto tempo possa durare questa cosa, però l'ultima volta ci ha preso la moneta, insomma, dovrei fare un sistema, vediamo sulla moneta per vedere quanto guadagna alla fine dell'anno, sarebbe figo da fare, insomma, ragazzi, ok. Allora, fatto questo aggiornamento, vi riporto un po' l'attenzione al concetto che questo video è un po' un prolungamento del video di ieri, quindi vi lascio anche sopra magari la mia testa il video di ieri, così andate a verificare, a vedere anche se è stato stravisto, perché quello è un video che parla di lungo periodo, medio-lungo periodo, questo qui invece è un video che parla più di breve periodo, cioè che cosa possiamo aspettarci nei prossimi dieci giorni circa. Questa cosa è interessante perché sul grafico di Bitcoin si sta andando a disegnare una struttura ciclica molto interessante. Allora, vediamolo prima sul grafico che è il solito grafico, quello che guardiamo sempre, ormai veramente da tantissimi anni. Abbiamo dei dati che sono oggettivi, dei dati che sono, diciamo, ufficiali. Sul minimo del 20 di marzo è iniziato un nuovo ciclo mensile per quanto riguarda Bitcoin. Questo ciclo mensile viene fuori da un ciclo mensile precedente di 26 giorni, molto molto corto, ma vedremo che per esempio in questo grafico, quello che riguarda il Future CME, questa struttura non è così. Adesso vi faccio vedere, insomma, la differenza, insomma, è una differenza anche importante. Intanto, la struttura dei cicli mensili a questo punto è stata fatta con un primo ciclo mensile da 30 giorni, il secondo ciclo mensile invece da 26. Quindi a questo punto che cosa abbiamo? Qui abbiamo una struttura che è iniziata da poco ed ha completato un ciclo da due settimane sul minimo della giornata di ieri. Probabilmente proprio così, tant'è vero che il rialzo di oggi dovrebbe essere appartenente all'inizio, per esempio, di un nuovo ciclo settimanale e quindi questa dovrebbe essere la fase up, la fase forte proprio di questo nuovo ciclo settimanale. Attenzione però perché da un punto di vista ciclico siamo nella fase secondaria del ciclo mensile, anche se siamo a metà al momento, quindi l'asset in questione potrebbe tranquillamente tentare di fare nuovi massimi. Adesso io ve lo dico in maniera tecnica questa cosa perché c'è un dettaglio che ancora Bitcoin non ha fatto, quindi in realtà la situazione si è incrinata, lo vediamo anche in un altro grafico che vi faccio vedere alla fine del video, cioè questo qui, dove sta? Eccolo qui. Lo vedremo anche su questo grafico, quindi la situazione intanto si è incrinata, da un punto di vista di analisi tecnica senza dubbio, però non si è incrinata in maniera definitiva perché mancano due tasselli, quindi in realtà da un punto di vista ciclico siamo su un nuovo ciclo mensile da qui. Abbiamo fatto la metà del ciclo mensile probabilmente chiusa ieri, a questo punto mancherebbero più o meno altri 14 giorni circa per arrivare diciamo più o meno a un 30 giorni, 28 giorni. Ciò significa che in questo lasso temporale per andare a chiudere magari a formare un ciclo mensile come i precedenti, che più o meno sono stati fatti così, il mercato può ancora spingersi nel tentativo addirittura di superare questo massimo. Allora, da un punto di vista probabilistico questa cosa è diventata meno probabile, cioè poco probabile, diciamo così, direi 40-45% di probabilità, perché da un punto di vista tecnico questa cosa si è andata a scaltire con il ribasto della giornata di ieri, ma ciclicamente parlando non è variato nulla rispetto all'andamento precedente, per cui noi possiamo ragionare e dire può solo scendere, cioè non ci sono vincoli, si dice così da un punto di vista ciclico. Perciò abbiamo un minimo di partenza che è superiore al precedente, questo ciclo mensile non è ancora vincolato al ribasso. Questo significa che la sua struttura, che in questo momento è stata fatta in questo modo più o meno, potrebbe tranquillamente riprendere a fare una nuova fase così, con grande tranquillità, perché non ci sono vincoli da un punto di vista ciclico. Da un punto di vista invece di analisi tecnica, quello che è successo con il ribasso di ieri è stata una perdita di momentum, si definisce così, molto importante e molto sostanziosa perché ricade su due fronti diversi. Uno, una fase di ciclo appunto molto delicata, cioè la fase di metà. La seconda cosa, una fase tecnica con il gatekeeper, è il famoso livello che vi avevo mostrato nel video della settimana scorsa, che ha impattato e che impatta in maniera molto negativa perché è pericolosissimo. Questo è il discorso, quindi non ci sono vincoli ciclici, bensì da un punto di vista tecnico, però l'analisi tecnica ci dice di stare molto attenti alle eventuali fasi. Quindi fase di eventuale recupero che tra l'altro, se volesse avvenire, dovrebbe farlo massimo domani o dopodomani in maniera molto sostanziosa. Quindi noi domani o dopodomani dobbiamo ritornare a 70.000. Questo è il discorso, perché se vogliamo andare oltre dobbiamo fare 70.000 e poi riprovare per fare poi una cosa del genere. Questo ci potrebbe tranquillamente stare. Altrimenti io dico che se tra domani e dopodomani questo ciclo nonno va a esprimersi andremo direttamente a chiusura del ciclo mensile ed è proprio qui che insomma avvengono i problemi. Perché se qui facciamo un semplice limbalzino così come al momento sta avvenendo, dopodiché dobbiamo andare a chiudere il mensile e a questo punto questo ciclo mensile potrebbe essere, anzi con molta probabilità potrebbe appartenere a un ciclo trimestrale ancora in corso che andrebbe a concludersi probabilmente intorno agli 80, 85, 86 giorni con la chiusura di questo mensile e allora la probabilità anche ciclica che questo mensile sia rialzista e molto molto bassa. Cioè è molto più probabile che questo mensile sia un mensile di congestione o addirittura ribassista. Io quello che vi ho disegnato in questo modo è un mensile neutrale di congestione che chiuderebbe l'intera struttura ciclica trimestrale e ci sta alla grande, anzi secondo me sarebbe la soluzione ottimale per una serie di questioni anche perché andremo a cavallo del 19 di aprile. Quindi per anche una questione di natura tecnica con dei dati che riguardano la volatilità del mese con una questione legata al mese di aprile, l'impatto di poter avere un aprile negativo per la prima parte e che recupera nella parte successiva quindi finale, è assolutamente da preferire a qualsiasi altro scenario per la continuità di questo movimento rialzista. Quindi è senza ombra di dubbio lo scenario migliore per continuare questa fase rialzista. Detto questo, ragazzi, quindi la questione da un punto di vista ciclico è esattamente questo. L'osvolgimento di questa struttura ciclica mensile darà risposta a quanto. Ora, io credo che se noi scendiamo troppo velocemente, cioè prima della chiusura di questo mensile, è pericolosissimo perché significa che possiamo allungare anche i tempi, molto. Mentre se invece ci incischia un po', perde tempo, poi va giù a chiudere questa cosa, basta veramente un niente. Può fare anche una roba del genere che da un punto di vista tecnico è un mensile ribassista, ma da un punto di vista pratico, diciamo così, è ribassista solo sulla lettera perché poi alla fine rompe il minimo precedente di pochi dollari, quindi da un punto di vista oggettivo non cambia assolutamente niente, però sarebbe da preferire a tutti gli altri scenari. Ora, la versione della continuazione della ripresa del rialzo è ancora possibile per una variabile che è anche legata a un fattore di cicli inversi. Non ne parlo mai, ragazzi, non voglio presentirvi su queste cose sinceramente perché poi se no parliamo sempre delle stesse cose, tanto insomma il succo e la morale non cambia, però anche lì da un punto di vista tecnico il ciclo in questione chiama teoricamente la possibilità ancora di avere un'altra gamba rialzista importante da metà aprile in poi. E questo si ricollega anche con il video che vi ho postato sulle 4 più 1 cripto da monitorare da aprile in poi, ve lo pusho sulla mia testa, ragazzi, perché quel video è anche importante, da aprile in poi, appunto, quando questa fase sarà conclusa potrebbero essere significative quelle che ho sulla mia testa. Allora, detto questo, passiamo anche all'altro grafico e poi l'ultimo, quello che riguarda invece la risi tecnica che ci dà un segnale fortemente ribassista è che vi avevo già mostrato questo grafico ed è stato confermato anche in questo caso dal mercato, purtroppo, insomma, è che dobbiamo dirlo in questo caso, però, ripeto, non è detta l'ultima parola. Allora, qui c'è il grafico del CME, guardate come intanto è assolutamente molto, molto più pulito e anche la struttura dei cicli mensili si vede in maniera molto più lineare, 29 giorni qui, 1, 2, 28 giorni qui, 1, 2, e questo è l'altro ciclo mensile. Quindi, questo ciclo mensile, io gli ho dato un timing di 28 giorni, ma giusto per, ragazzi, può essere anche 30, 29, sapete, un paio di giorni non cambia niente, e teoricamente avrebbe sancito anche lui, in questo caso, vedete, 14 giornate aperte, circa 9 barre di giorni per il CME, perché resta chiuso sabato e domenica, però, in pratica, si potrebbe sviluppare intorno fino al 17-18 di aprile. Questa struttura, intanto, simboleggia due cose. Primo, il livello di supporto già raggiunto intorno ai 64 mila dollari che in close è importantissimo, questa zona qui, cioè 64 mila dollari in close, 33, 9, 75, quindi veramente 64, direi. Questa cosa è importante perché la perdita in close di una candela daily di questo livello sancisce l'inversione di trend di breve periodo, perché qui abbiamo un massimo, un minimo, un massimo inferiore, qualora dovessimo fare una cosa del genere e chiudere al di sotto, avremmo l'inversione di trend confermata da un punto di vista di breve periodo, che quindi in quel caso il trend di Bitcoin di breve diventerebbe ribassista, ma per la struttura che stiamo vedendo, io direi il laterale ribassista, perché è ben diverso un trend di questo tipo, che sì, insomma, sta facendo magari dei minimi, vedete, e dei massimi decrescenti, ma è ben diverso una roba del genere con un trend che ci fa questo, ok, questo è un vero trend ribassista, quello è un laterale ribassista, quindi ha una pendenza leggermente inferiore, questo è più infatti una barra di congestione ribassista, piuttosto che un vero trend di ribasso, insomma, ecco qua c'è da dire questa cosa, però è importante ragazzi, quindi 64.000 in close daily, importantissimo come livello di supporto ciclico-tecnico, perché da un punto di vista anche ciclico, la rottura di questo livello confermerebbe una inversione ribassista del ciclo mensile, e questo sarebbe indicato dal grafico delle CME, è un po' diverso, guardate, il grafico dello spot, perché il livello è più basso, qui la close lo abbiamo a 61.008, 62.000 dollari, e abbiamo la shadow a 60.700, quindi capite bene la differenza, 4.000 dollari di differenza ragazzi, quindi, allora, guardiamo un po' di più il grafico del CME in questo contesto per capire, perché se il CME anticipa, ok, allora lì si può iniziare a ragionare e a dire attenzione, perché questo ciclo mensile potrebbe essere veramente, insomma, facile, qui il vero lasciato è a sempre 61.000 dollari, però la close è più alta, e questo indicherebbe che insomma siamo vicini, quelli in close hanno molto più valore in realtà, però, insomma, soprattutto in un frangente di questo tipo, quindi assolutamente da monitorare, se comunque fosse confermato tutta questa manprina, qui andiamo giù, o in laterale, fino al 18 di aprile, circa 10 giorni, 14 giorni, circa due settimane, quindi sarebbe in questo contesto, quindi veramente molto delicata l'attuale situazione. Andiamo a vedere l'ultimo grafico che vi avevo promesso, cioè quello che riguarda l'analisi tecnica, l'analisi tecnica dice in questione che noi qui abbiamo fatto, il rimbalzo sul famosissimo livello che ormai, io, diciamo, ho fatto la testa ad acqua, 78,6, devo preparare la maglietta, anzi se lo scrivo a qualcuno, mi dà una mano, poi la maglietta è stata tutta in serie, così la portiamo, come vi avevo promesso, e qui, niente ragazzi, nella giornata di ieri è stato confermato l'inversione da Get Keeper, quindi qui questa candela che ha breccato i livelli di minimo di questa zona, ha confermato il fatto che il rimbalzo in questione è stato il rimbalzo del gatto morto. Ora, necessita di un'altra conferma, la rottura di questo minimo, a rottura di questo minimo, la figurazione del Get Keeper verrà confermata, indicando al 100% l'inversione di trend, anche in questo caso appunto di breve periodo. Sarebbe secondo me molto delicata, molto pericolosa una questione del genere. Attenzione che io qui ho indicato anche un livello di chiusura del trimestrale molto più lungo, secondo me un po' eccessivo, 107 giorni, per indicare più o meno due cicli simili, quindi 57, 50, come se qui fosse iniziato un ciclo da 50 giorni che dovrebbe fare una cosa del genere. In pratica la differenza è che questo dura di più di quello che abbiamo visto precedentemente in questo grafico qui, che invece si concluderebbe a metà di aprile. Tra i due preferisco la prima versione, cioè questa qui, mi sembra più coerente, più normale, devo essere sincero, anche con i mensili sviluppati, dal grafico sul future del CME. E poi anche da un punto di vista di cicli inversi non mi dilungherei tanto nei tempi, quindi secondo me la versione più lunga è un po' più farraginosa, diciamo così, un po' più ricercata, però poco consistente. Quindi questo da un punto di vista di analisi tecnica tenetelo sempre a mente. Vi faccio vedere anche il mio indicatore di ipercomprato, ipervenduto, che si sta riavvicinando alla zona di nulla di fatto. Attenzione, come ha funzionato? Alla perfezione. Quello che ci avevamo detti su questo indicatore, ragazzi, è stato una sfera di cristallo, proprio ha funzionato in una maniera incredibile quando abbiamo fatto il video su questo indicatore dove indicavo e dicevo attenzione che pre-halving quello che potrebbe fare sarebbe un touch del livello di eccesso e poi il rientro. Ve ne avevo parlato veramente tanto, qualcuno di voi insomma sicuramente se lo ricorda, andatevi a riprendere quel video che io purtroppo adesso non mi ricordo dove sta, comunque sostanzialmente erano stati paragonati i livelli del pre-halving come queste zone, soprattutto quella del 2016 che è stata fatta proprio così, quindi una fase di touch e poi il rientro sotto questa linea di colore rossa, diciamo così. Qui abbiamo fatto il touch e poi il tentativo sta proprio facendo il tentativo di rientro, quindi un eventuale ritorno di bitcoin al di sotto di quota 46 sancisce la conferma precisa che questa fase è molto simile all'anno 2016 barra 2017 e da un punto di vista tecnico si vedono anche le strutture cicliche dagli indicatori di volatilità perché sono anche utilizzati per esempio per fare proprio delle questioni cicliche come la famosa M che si sta andando ad esempio a delineare, sarebbe interessante vedere se lo fa. Allora ancora però, come si può vedere, siamo in una fase, si è vero sotto in questo momento il secondo livello di accesso, il primo livello di accesso, scusate, non il secondo, il primo livello di accesso, ma siamo lontani dalla fase neutrale, quindi teoricamente ci vuole un po', quindi almeno in zona 50 dovremmo scendere, qui siamo ancora a 66. Benissimo, detto questo ragazzi, spero di avervi chiarito un po' tutta la situazione di breve periodo, non è un momento florido, ma non è neanche pericolosissimo perché la questione è, va vista anche da un altro punto di vista, cioè questa fase di bassista è una fase di bassista che ci sta e soprattutto, ben venga, il problema non è questo, il problema è come si vengono a strutturare queste fasi di bassiste. In questo contesto preciso, cioè con una logica dell'albing che è rispettata alla lettera degli ultimi video che abbiamo fatto sull'albing, vi avevo già ipotizzato che potessimo essere in questo scenario, lo scenario di massimo pre-albing e poi lateralità per un'ottantina di giorni con un minimo importante, proprio a cavallo dell'albing e poi da lì il mercato ha fatto questa cosa. Siamo in una chiusura ciclica di un mensile, siamo in una chiusura ciclica di un trimestrale e questa cosa indica che i ribassi attuali sono naturali, cioè non sono cose anomale in base anche all'attuale posizione, diciamo, al tuo movimento di Bitcoin che vi ripeto, l'anno 2023 è stato, insomma, impressionante, l'anno 2024 è stato anche forse troppo bene, da certi punti di vista e quindi ci stanno questo tipo di oscillazioni. Detto questo, ragazzi, vedremo come andrà, ma nel breve periodo io seguirei questi tipi di scenario. Il mensile attuale è la chiave, quindi se vogliamo avere scenari di recupero, massimo oggi, domani, una cosa del genere, domani, dopo domani, proprio, domani proprio, cioè siamo proprio stellari per recuperare, altrimenti io inizierei, insomma, a mettere i remi in barche a cercare di capire come fare. È importante, ragazzi, la prossima fase, prossimi 20 giorni, prossimo meso, e come vedete, è importantissimo da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di formazione, ragazzi, di questo ne parleremo anche settimana prossima, vi metto la pulce nell'orecchio, perché io, come sempre, sono molto attento ai momenti particolari del mercato, anche per quanto riguarda la questione relativa alla formazione, a quelli che sono i nostri percorsi formativi, eccetera, e sono sempre stati collegati ai momenti di mercato, cioè quando era... più importante dare queste cose, cioè quando serviva di più di formare le persone, formare gli utenti, formare i follower, chiunque abbia voglia di cambiare un po' il punto di vista, ragazzi, e vi assicuro che dopo la formazione, il punto di vista sui mercati, lo cambiate, lo cambiate e come, da mille, mille concetti, vi rendete conto anche di quante fanfare, di quanto peterie ci sono in giro di superficialità, non di cattiveria, assolutamente, sempre discorsi superficiali, mai, mai discorsi, insomma, di fatti apposto, io almeno non le vedo così, però la formazione vi eliminerà questo problema, quindi è molto importante, soprattutto il prossimo mese, veramente, importantissimo, secondo me. Va bene, ciao a tutti e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao.